Beh questa notizia mi rattrista molto perché quando ci ha colpito molto io mi sono anche ho salutato anche con un abbraccio il premier Macron per questo attentato, per questo ville attentato e poi mi ha molto colpito la notizia di Antonio Megalizzi, di questo ragazzo di Rovereto che poi studiava a Trento, stava completando un master, era un appassionato del vostro mestiere, del giornalismo, della radio, lavorava dei progetti molto interessanti ed era appassionato anche d'Europa perché studiava le istituzioni europee, quindi in questo momento veramente un pensiero di grande affetto e molto commosso va alla sua ragazza e ai suoi familiari, ci dobbiamo unire tutti in questo dolore per questa grave perdita, un ragazzo che appariva così pieno di vita anche nei racconti che ne sono stati fatti.